Abito in città. Vengo da Milano. Sono in strada. Mario è al bar con Lucia. Il treno sta per partire. Vogliamo andare a Roma. Parte oggi a mezzogiorno. Parto da casa alle 10. Ho appreso la notizia da te. Vive a Roma e Parigi. Metto il vaso su un tavolo. Un suono di campane. Una giacca in pelle. Il cane è di un mio amico. Il canale. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.